Lo scorso 28 giugno i medici e una giuria di esperti hanno conferito al portale professionistisaluti.it il premio eccellenza dell'informazione scientifica nella categoria multichannel. Quali sono le caratteristiche principali di questo progetto? La caratteristica principale è sicuramente quella di dare tutta una serie di informazioni alla classe medica che sia molto specifica e molto di dettaglio. Dunque metterli in grado di poter essere informati al meglio su tutta una serie di prodotti che Novartis come gruppo, perché ricordo che professionistisalute prende il gruppo Novartis, dunque c'è dentro anche Sandoz, oltre a Novartis farmaceutica e oncologia. E l'altro punto caratterizzante del progetto è quello proprio di poter raggiungere i medici. E questo non è banale, perché una volta che si è fatto un sito non è cosiddetto che i medici utilizzino questo sito. La collaborazione con Mercurio è stata veramente importante per aiutarci a raggiungere questo obiettivo. Nel multichannel quanto conta il rapporto medico-paziente? La centralità del paziente per noi come Novartis è fondamentale, dunque la possibilità di dare al medico tutta quella serie di informazioni che le permettono di gestire al meglio e quando al meglio vuol dire anche nel modo più compliante possibile per fare un utilizzo ottimale delle risorse, che sapete benissimo che in Italia è un problema di risorse fondamentale. Dunque avere questo sistema che ci permette questa serie di informazioni, questa educazione medica, ci aiuta sicuramente a dare il miglior servizio al paziente attraverso del suo medico. In che modo l'innovazione è al servizio del medico e migliora la qualità della vita del paziente? L'innovazione è molto legata al fatto che oggi come oggi il medico non è più come nel passato che riceveva informazioni solo, il paziente lo stesso, riceveva informazioni solo dall'informatore medico scientifico o dai congressi. Oggi con la multicanalità c'è una possibilità di informarsi veramente molto ampia e molto diversificata. Questo fa sì che l'innovazione ci obblighi, dunque diventa quasi un obbligo di presidiare tutti i canali con le corrette e coerenti informazioni che possono essere utili al paziente e al medico.